It's me, Mario! E ci sarà finalmente il video del livello evento, l'ultimo livello evento uscito nell'area, appunto, livelli in evento del Super Mario Maker del PAX West 2015, credo è una figata assurda, in ogni caso non perdetevelo, mi raccomando, in ogni caso iniziamo subito con i vostri livelli, il primo livello è di Niki, che ha ucciso il Red Koopa, lo scopriremo, vediamo un po', ambientato in Super Mario Bros, percentuale di vittoria 39,47%, tentativi 76, riusciti 30. Lady, come sempre sotto lo screenshot, noi iniziamo subito a palla, a vedere un po', chi ha ucciso questo Red Koopa, tanto per vedere un po', vediamo allora, chi sarà mai stato, chi c'è qua su? Su non c'è assolutamente niente, sembra, però è carina questa cosa messa lì, sarebbe stato bene un potenziamento qualcosina. Ehm, ok, quello è disgraziato, mi pare a me quello lì, allora, blu, 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 aspettate, provo a, blu, 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 ok, oddio mio, no, è che diamine, blu, ma qui non si può scendere, no, solitamente no, prima porta, seconda, prima porta, cioè la prima, la seconda, la prima è quella dove siamo usciti. Eh, 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 Matt o At? At? Cappello, comunque era. Perché? Perché? Perché ho fatto quello? Per cose oscure ragioni ho fatto ciò, in ogni caso facciamo, ci torniamo velocemente, anche se tornare lì mi sembra un po' inutile, quindi direi di andare avanti e andare in quest'ultima porta che c'era di qua e non trovare il niente più totale. Ehm, ma quindi questo qui sarebbe, insomma, sangue sarebbe quello dei mattoncini blu? Who killed? Ok, chi l'ha ucciso? Ok, eh, chi l'ha ucciso? Oh, la talpa l'ha ucciso, la talpa l'ha ucciso sicuramente. Anche il cappello, wrong, lo so, ho sbagliato, c'era il cappello, maledizione. Ci ritroviamo lì in fondo alla scelta finale. E secondo me Red Cup è stato ucciso da lui, perché c'è il cappello e non c'è altro. E infatti, ok, grazie, right, giusto, bellissimo, carino però. Sapete che l'idea non è per niente male, anzi, l'idea mi stuzzica parecchio, l'ingegno, perché effettivamente è un livello anomalo, diverso da tutti gli atti. La sera te la lascio proprio perché è anomalo, ma perché è anche carino. E perché effettivamente potremmo ricreare un qualcosa di ancora più articolato in teoria. Comunque bravo Niki, complimenti. Ma hai dato un discreto spunto e credo anche a chi vedrà questo livello poi hai dato spunto, perché secondo me potrebbe venire fuori qualcosa di molto molto carino da questo livello. In ogni caso, a tra un attimo con il prossimo. Oh, mamma mia. Allora, il prossimo livello di Dario si chiama Kupas Headship. Quindi, ambientate in news per Mario Bros U. Tentativi 56, riusciti 2, percentuale di vittoria e 3,57%. Sembra un casino a vederlo così, però comunque magari giocarlo è anche peggio. No, scherzo. Vediamo un attimo com'è effettivamente questo livello, perché promette bene, promette in teoria. Allora, intanto questo direi di lanciarlo qui e prendere forse questo. Maledetti pesci, io odio i pesciozzi. Io lo sapevo io che andava a finire male, io lo so. C'è un po' troppo di genero. Qui bisogna prenderla un po' più di punta, perché se ci si perde a uccidere quella e quell'altra cosa, non si risolve. Niente. Ok, qui andiamo di... Maledetta pianta schifosa che non sei altro. Ok, facciamo... No, quello... No, non mi ci vuole. Sì, mi ci voleva. Perfetto, sono un genio. Sono un genio. Ok, benissimo. Vai così. Questo lo lanciamo. Perfetto, un po' di spazio. Bene. Ok, siamo riusciti... Eravamo riusciti a fare i tre metri. Peccato che l'abbiamo persa così il tutto. Benissimo. Ottimo. Ok. Stiamo andando avanti, se non altro qui non ci si... Entra, perfetto. Qui c'è... No. No. Maledizione. Dei pesciozzi laggiù. Qua non c'è niente, no. C'è solo un tubo lassù che... Putta funghi. Ma... Quello per dopo tanto morirò. Quindi per dopo non è pensato male. Allora, chi c'è dentro a questa porta? Oh, no. Cioè, fammici entrare almeno 30 nanosecondi lì dentro insieme a Bowser. Mi ha... Mi ha mangiato. Dientemente. Sono stato uno spuntino per Bowser. Perfetto. Tra un po'. Ok, allora. Vediamo un po'... No. Maledizione. Non c'è niente qua, per curioso. Uh. Un fungo. Un fungo. Peggio delle stelle sono diventato con quei funghi. E prendiamo Yoshi. Benissimo. Perfetto. Che son già soddisfazioni. Coro e proseguiamo. No, Yoshi. C'era io. No. Basta. Degenero più totale. Dio mio. Avevo Yoshi però. Era bello con Yoshi. Altra un po'. Ok, stavolta Yoshi e anche lo sparo. Perfetto. Questa è una gran cosa, sinceramente. Oh, ora. Facciamo le cose... Perché ho detto facciamo le cose per bene quando non ci credo neanch'io? Lakitu. Vai, 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 vai. Check. Checkpoint. Hai messo un checkpoint. Io ti adoro. Sappi che ti adoro. Da ora in poi sappi che ti adorerò sempre. Quindi... No. Fungo. Ripreso. Ok. Abbiamo il Lakitu. Quindi lì abbiamo un altro Lakitu. Perfetto. Dio mio. Perché ho fatto una cosa del genere? Perché? E qui che diamine devo fare? Sì, vabbè, dai. Siamo morti? Ah no. Cioè... Ok. Non mi ha preso. Perché non mi ha preso il pallottolo Bill. Perfetto. Così... Ah, ok. Pensavo di essere... Giuro che pensavo di essere morto in quel momento. Ah no. Siamo ritori... Come siamo ritornati qui? E che diamine... No. Vieni qua. Ok. In testa. Bene preso. Perfetto. Passiamo di sopra. Freghiamoci di ciò che succede là sotto. E cerchiamo di... Ah. Non morire magari qui. Possibilmente. Quindi. Ok. Benissimo. Poi. No. Maledizione. Forse eravamo alla fine. Bra. Bello però questo livello. Mi piace. Bel casino. Ok. Siamo tornati qui per meno da qualche parte. Perfetto fungo. Ottimo. Perfetto. Quello. Poi passiamo di qui. Poi noi passiamo di qui. No. Vai. Il degenero. Questa parte qui non la farò mai. Forse devo passare di sopra. Ora riproviamo. Vediamo un po'. Ok. Siamo tornati qui. Ed è già qualcosa. Perfetto. Poi passiamo di sopra. Cerchiamo di saltare. No. 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 Di qui. Quasi. A caso. Quasi. Maledizioni. Come devono facci a passare di là lì? Vai Mario. Vai 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 vai. Grandi così. Grandi in questo modo. Mamma mia. Che faticaccio a farlo. Mamma mia questa parte finale. Allora. Questa parte finale è un po' troppo incasinata. Ma forse non ho trovato io la strada giusta per passare di là. Perché mi sa che c'era. Ho visto parecchie porte e comunque diversi tubi. Quindi magari si passava di là anche senza fare il boss. La stella te la lascio. Però la parte di Bowser magari la farei un po' meno incasinata. Leggermente meno. Perché poi il resto di livello è carino. Mi è piaciuto parecchio. Quindi la stella te l'ho lasciata principalmente per quello. Allora io non so quanto è durato questo livello. Mi sa parecchio. Perciò direi che con questo video ci possiamo salutare. Qui vi ricordo non scappate. Perché tra un'oretta e mezza circa farò uscire l'episodio dedicato al livello evento. Che l'ultimo livello evento fatto uscire da Nintendo. Che si riferisce al Pax West 2015. Credo se non erro. Tra l'altro figata assurda di livello. Che a mi sembra il 3,63% di riuscita. Credo. Quindi immaginatevi voi. In ogni caso direi che prima di salutarci volevo fare i saluti. Cioè un saluto a Maxis01, a NicolasN, a uno che si chiama Smash Bros. Perfetto. Quindi ciao Smash Bros. Grande così. Un saluto a Gabriele P. Un saluto a Lancia5000. Un saluto a Francis Chicco 3DS. Un saluto a I2Player. Credo si dica così. Comunque è scritto I2Player. Io ho tentato di immaginare come si pronunci. Spero di non aver sbagliato. Un saluto a Matteo F. E un saluto a XDJ. Quindi vi raccomando. Grazie. Veramente grazie tantissimo di seguirmi. Come sempre in tutti i video. Di commentare. Grazie di cuore a tutti quanti. Vi ricordo se vi va di iscrivervi al mio canale Facebook e Twitter. Trovate i link in descrizione. Se vi va di seguirmi sul Miiverse. E aggiungermi su Steam. Se avete un PC ovviamente. L'ID del Miiverse e quello di Steam. Li trovate in questo e nella descrizione. Anzi di questo e di tutti gli altri video del canale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.